dunque allora prima di parlare dell'argomento di oggi programmazione asincrona in javascript in realtà non faremo tutte queste slide ma le faremo tra oggi e la prossima volta solo qualche informazione di servizio riguardo a quello che abbiamo fatto l'altra volta ricordate che noi abbiamo risolto insieme questo esercizio 1 che è nella cartella WIC01 di AV1 WICS quindi della cartella degli esercizi del corso in italiano sul solito github e trovate online anche una possibile soluzione per l'esercizio 2 che non abbiamo visto insieme però è un esercizio che tratta di gestione degli array e delle stringhe quindi trovate questa possibile soluzione niente di particolare giusto per prendere un po' la mano ogni tanto è necessario fare qualche for diciamo così tipo C come avevamo detto l'altra volta ogni tanto non c'è scampo se abbiamo qualcosa da contare insomma questo è il modo e magari prendete un po' confidenza con qualche metodo a disposizione sugli array o sulle stringhe in particolare come questo trim per tagliare via di spazio all'inizio alla fine e così via ok non è un esercizio particolarmente complicato quindi io non starei a fare particolari discussioni a riguardo quindi il codice è normalissimo gestiamo qualche stringa e così via l'unica cosa che dovete ricordarvi delle stringhe in javascript rispetto ad altri linguaggi è che sono immutabili quindi non possiamo andare a modificare i singoli caratteri della stringa ma tutte le volte si crea una nuova stringa dove finiscono le vecchie stringhe è una curiosità così come in tutti i linguaggi dove non gestiamo esplicitamente la memoria prima o poi l'interprete quindi l'ambiente esecuzione libera la memoria quindi c'è un garbage collector come in java come in altri linguaggi che libererà la memoria quindi noi non dobbiamo occuparcene comunque possiamo riassumere il discorso in questa maniera per oggi c'è un esercizio in week 0.2 proposto che faremo insieme oggi su qualcosa di un pochino più complicato è sempre gestione di come dire di una list di un array dove però proviamo a usare le funzioni costruttore passiamo qualche callback facciamo un minimo di programmazione funzionale che sono le cose che vediamo questa mattina quindi io direi di iniziare su queste slide se non avete dei dubbi o delle domande e appunto queste slide sono un set abbastanza lungo ci terrà occupati per oggi e la prossima volta è importante imparare tutto bene di queste slide perché sono la base poi per tutte le funzionalità che andiamo a usare nel resto del corso perché il nostro corso sarà pieno di callback sarà pieno di programmazione asincrona perché è la maniera in cui javascript gestisce potremmo dire tutto quanto ci sarà anche un intermezzo gestione di accesso a database tramite SQLite perché ci serve nel corso per il lato server per immagazzinare qualche informazione e poter fare qualche query SQL molto semplice per avere un minimo di base dati però siccome l'accesso lo faremo in modalità asincrona dobbiamo prima parlare di questo aspetto ok quindi prima di tutto callbacks cosa sono le callbacks? le callbacks non sono nient'altro che delle funzioni normalissime funzioni solo che a noi piace chiamarle callback quando prendiamo queste funzioni e le passiamo come parametro ad un'altra funzione l'abbiamo già fatto l'altra volta l'abbiamo visto in maniera un po' implicita non ho stressato troppo la cosa però per esempio quando noi facciamo la sort di un array la sort si aspetta una funzione come parametro che dice come confrontare due elementi quando noi prendiamo questa funzione e la passiamo alla sort quella funzione è una callback non è una funzione diversa dalle altre perciò è una funzione come le altre semplicemente noi come nomenclatura la chiamiamo callback per ricordare che ci che ci sarà qualcun altro che per noi la chiama e tipicamente all'interno nella funzione a cui passiamo questa callback quindi la funzione è invocata dentro l'altra la funzione a cui la passiamo per fare qualche attività di cui ha bisogno per esempio la sort tutte le volte che deve confrontare due elementi per capire se il primo viene prima del secondo o viceversa e quindi metterli in ordine invoca la callback mi chiama la funzione che noi abbiamo passato le callback possono essere di due tipi sincrone o asincrone finora abbiamo visto solo callback e sincrone perché sono la modalità più semplice di usare le funzioni che è anche quella a cui siamo più abituati nei linguaggi di programmazione procedurali tipici che avete visto finora C, Python o non so cosa avete visto Java tutto avviene in modalità sincrone cosa vuol dire? che quando chiamiamo una funzione questa funzione attendiamo che termini quindi attendiamo che arrivi al suo punto di ritorno il return se c'è o in JavaScript è implicito al termine del codice ritorna e l'esecuzione del codice si blocca fino a che l'esecuzione della funzione chiamata non è terminata e poi si riprende col codice da cui la funzione è stata chiamata questa è l'esecuzione sincrone la classica a cui siamo abituati chiamiamo una funzione andiamo nel codice a funzione torniamo indietro ritorniamo al punto da cui siamo partiti e andiamo avanti in JavaScript vedremo che molte funzionalità saranno di tipo asincrono cioè noi diciamo di fare una cosa e poi a un certo punto si tornerà l'esecuzione del nostro codice quando questa cosa sarà finita e questo diciamo dobbiamo entrare in questa logica e per far questo per poter diciamo eseguire del codice quando qualcosa sarà finito dovremo appunto passare delle funzioni delle callback quindi del codice da eseguire che verrà chiamato al momento opportuno dall'ambiente quando l'operazione che abbiamo richiesto sarà terminata l'esempio classico è l'input output l'input output è un'operazione asincrona perché non sappiamo quando termina e quindi tipicamente viene gestita in modo asincrona nei linguaggi di programmazione classici prendiamo il C voi fate una read non è gestita in maniera asincrona no perché aspettate che termini la read che leggiate da file leggiate da da socket e così via ritornano quando hanno finito noi qui invece adotteremo un approccio differente perché tra poco lo vediamo guardiamo l'esempio così non parliamo in modalità troppo teorica quindi noi abbiamo una funzione normalissima funzione definita in javascript l'abbiamo fatto con la keyword function potevamo farlo con la arrow function quindi con la freccia fa lo stesso assegnarla una variabile usare quella variabile come riferimento alla funzione fa lo stesso cosa fa questa funzione fa semplicemente il console.o quindi la print diciamo così del quote di ciò che viene passato e poi abbiamo un'altra funzione create quote che è una funzione che usiamo per fare una prova di queste callback quindi prende un un parametro quote ok quindi qualcosa che noi vogliamo scrivere e questo secondo parametro che noi chiamiamo callback per nostra comodità ma sapete che in javascript non mettiamo i tipi quindi potevamo chiamare a e b non fa niente siamo noi che sappiamo che vogliamo passare una funzione come secondo parametro a questa create quote e quindi per nostra comodità per ricordarci la chiamiamo callback cosa fa questa funzione semplicemente crea una stringa quindi cos my quote uguale like i always say quindi come mi piace sempre dire dollaro graffa quote quindi vi ricordate questa sintassi questa sintassi è la sintassi che ci consente di prendere il valore di un'espressione in javascript e inserirlo in una stringa per far ciò bisogna che la stringa sia dichiarata con il backtick quindi l'apice rovescio ok quindi abbiamo costruito una stringa e poi cosa facciamo prendiamo questa stringa e la passiamo alla funzione che ci viene passata come parametro quindi il suo nome che è questo che noi abbiamo scelto quando abbiamo scritto create quote è quello che usiamo per chiamare la funzione è un riferimento basta aprire e chiudere le tonde e se è una funzione viene chiamata la funzione puntata da quel riferimento quindi nel momento in cui noi chiamiamo create quote quindi col primo parametro quote web app 1 rox voi potevamo scrivere app web 1 siamo in italiano rox ok log quote quindi log quote è la funzione questa funzione viene passata come secondo parametro e quindi diventa callback qui quando andiamo dentro la create quote e quindi cosa succederà succederà che create quote crea il my quote quindi crea una stringa like I always say virgola ci mette dentro quello che abbiamo scritto qui web app 1 rox quindi ha creato una stringa che passa come parametro la callback andiamo a finire dentro qui e facciamo il console log di tutta la stringa ok però il console log l'ha fatto la callback quindi è stata chiamata direttamente da drento create quote e non l'abbiamo creata chiamata anzi scusate noi direttamente dalla create quote ok quindi è qualcun altro che ha chiamato per noi la callback che noi abbiamo passato alla funzione ok quindi adesso qui abbiamo scritto tutto noi in questo esempio ma tipicamente questa funzione che fa qualcosa con la funzione che passiamo cioè con la callback sarà scritta da qualcun altro e questo ci dà molta flessibilità ci consente di fare invocare lanciare del codice a qualcun altro del codice che abbiamo scritto noi perché il codice della callback l'abbiamo scritto noi al momento opportuno questo è un esempio sincrono perché tutto avviene di seguito ma si può potrà anche avvenire in modo asincrono per esempio come vi dicevo prima accediamo a un file quando il file è stato letto ci viene chiamata la callback ok quindi abbiamo fatto una lunga premessa le callback sono usatissime in javascript cominciamo da quelle sincrone in realtà le abbiamo già viste e vi ho già detto per esempio la sort è una di quelle funzioni che richiede una callback e una callback sincrona cioè una callback che ritorni immediatamente un risultato dopo che ha fatto i suoi calcoli ovviamente questo è particolarmente semplice l'abbiamo visto facciamo a meno b se sono dei numeri e forniamo una modalità di ordinamento di due elementi e quindi la sort poi ci ordina l'array che differenza c'è? nessuno a sinistra è solo scritta in modalità diciamo più estesa function eccetera oppure noi come sapete possiamo usare questa notazione error function che vedremo spesso che cercheremo di usare il più possibile perché poi è usatissima nel codice che trovate in giro ed è anche comoda perché come sapete i programmatori sono pigri e vogliono scrivere sempre il meno possibile va bene un altro esempio filter che è un metodo che hanno a disposizione tutti gli array adesso andiamo a cercarlo sulla pagina di manuale crea un nuovo array con tutti gli elementi per i quali la callback che prende come parametro quindi c'è un unico parametro che è la callback questa callback ritorna true ok l'abbiamo un po' intravisto già nell'esempio della scorsa settimana noi avevamo la find index che non era tanto diversa davamo una callback per dire qual è l'elemento che ci interessa qui anziché darci solo l'indice quindi un numero ci da un array intero quindi crea un nuovo array e così via andiamo a vedere la pagina di manuale perché è sempre utile quindi come facciamo a trovare il riferimento che ci interessa mettiamo google così sia un po' più grosso ok mettiamo io almeno faccio così è la cosa più rapida mdn che è il nostro riferimento per javascript diciamo più semplice più intuitivo array filter poi possiamo anche cercarlo sulla pagina di mdn però google o altri motori di cerca sono un pochettino più rapidi nel farci trovare le cose quindi la filter che stiamo chiamando sull'array crea una shell copy vi ricordate shell copy cosa vuol dire che se abbiamo dei riferimenti vengono copiati i riferimenti non tutto l'oggetto puntato dal riferimento quindi crea una copia di una porzione dell'array filtrato solamente per gli elementi che passano il test implementato dalla funzione fornita quindi vediamo la sintassi ecco quindi se noi passiamo una callback la callback ritorna true e per tutti gli elementi per i quali ritorna true girando su tutto l'array ci viene creato un nuovo array e questi elementi vengono mano a mano messi dentro un nuovo array che ci viene ritornato ok c'è tutta la spiegazione quindi ce la possiamo andare a leggere callback function cos'è? una funzione da eseguire per ogni elemento nell'array ce la esegue la filter deve ritornare un valore truthy quindi vero o qualcosa convertibile in vero secondo le regole javascript per mantenere l'elemento nell'array altrimenti l'elemento viene messo da parte e si passa al prossimo se da sempre falso alla fine otterremo un array vuoto da qualche parte ci sarà scritto nel valore di ritorno se nessun elemento passa al test un array vuoto sarà ritornato ok questa callback function prende tre parametri l'elemento da processare quindi proprio quello che estrarremmo dalla casella 0, 1, 2 eccetera dell'array poi l'indice di quell'elemento è l'array perché allora noi passiamo una funzione come abbiamo nelle slide una funzione che prende un unico parametro ma perché javascript lo sapete è molto flessibile in questo senso ci consente di passare anche solo un unico parametro una funzione che richiede tre parametri abbiamo detto l'altra volta cosa prendono gli altri due parametri prenderanno il valore undefined fa lo stesso se non ci interessano non è un problema per noi se non è un problema per la funzione la funzione è nostra quindi siamo noi che abbiamo l'undefined quindi se noi in questa porzione di codice stock var minore di 0 se avessimo bisogno dell'indice dovremmo dichiarare lo esplicitamente qui perché se no non lo possiamo avere ci viene passato l'indice quando la filter chiama la nostra callback quindi questa qui che scriviamo qui tra parentesi se non ci interessa non lo usiamo se ci interessa lo usiamo se dovessimo fare dei ragionamenti sulla base della posizione potremmo farli oltre che del valore che so prendi tutti i dispari forse poi ci deve essere più avanti prendi tutti gli elementi dispari ci interessa l'indice non ci interessa il valore quindi dovremmo dichiarare anche il secondo parametro che è l'indice andare a fare la considerazione se l'indice è pari o dispari dire vero o falso sulla base dell'indice ok quindi bisogna entrare in questa ottica ora io non mi aspetto che appunto sia un processo rapidissimo però insomma avete una certa esperienza di programmazione quindi diciamo che una volta ispirati diciamo dalla dalla funzione giusta o trovate una funzione ragionevole che possa fare al caso vostro che fa il lavoro che vorresti in questo caso filtrare un array andate a guardarvi la pagina di manuale ve la leggete con calma vi guardate l'esempio cercate di capire l'esempio insieme a tutto il resto del manuale e poi avrete imparato a usarla provate nel vostro codice con questa funzione noi durante le lezioni nelle slide forniamo delle indicazioni per le funzioni di uso più comune quindi appunto adesso parlavano della filtra che si usa parecchio poi ci saranno altre due o tre funzioni che vediamo tra poco sugli array che ci consentono di fare operazioni molto comuni e che ci tornano utili più avanti nel corso noi abbiamo sempre un po' quest'ottica di massimizzare l'efficienza d'uso del tempo delle lezioni quindi vediamo soprattutto ciò che ci torna utile più avanti nel corso però come vedete è pieno di funzioni che possono essere usate sugli array ok quindi io spero che tutti sia chiara questa sintassi e andiamo possiamo facciamo una prova visto che la facciamo qui perché mi è andato così non si sa perché è diventata quattro pagine va bene questa mattina è andato sto volevo prendere il codice di questa la proviamo nel python tutor che boh se no anche ma no proviamola nel nel video studio cosa nel python tutor oramai anzi no facciamo l'ultimo giro nel python tutor poi promesso non lo usiamo più python tutor ok perché così vediamo ancora l'ultima volta i riferimenti ovviamente javascript ecmascript 6 use strict non scordatevelo mai perché vi evita tanti di quei bug che diciamo non avete idea ok quindi qui abbiamo definito un array 0 1 2 ci sono tre caselle in questo array sono tre riferimenti perché sono tre oggetti abbiamo aperto la graffa quindi sono oggetti oggetti che abbiamo creato noi a mano dando due proprietà sempre con lo stesso nome name e var quindi questa è la struttura che abbiamo nella memoria che deve esservi sempre chiara ovviamente se non vi è chiara provate nel python tutor e se invece è tutto a posto appunto ragionate in base a questa questa rappresentazione ok a questo punto bad market filter abbiamo questa funzione stock stock punto var minore di zero quindi prendiamo tutti quelli negativi vediamo un po' cosa avviene fuori next ok stock ok va bene mi fa vedere i vari passi quindi va a farsi il giro su tutti gli elementi e alla fine mi ritrovo un bad che è un array 0 1 che ha solo più due elementi non tre è stato creato dal filter quindi un nuovo array e lo vedo dal fatto che la freccia è diversa no è comunque un array differente ma i riferimenti sono agli stessi elementi quindi crea una shell o copy come dicevamo prima non è che mi ha ricreato gli oggetti anche perché dentro poteva esserci di tutto ok e poi analogamente va bene l'altra funzione diciamo fa lo stesso giro con un callback differente ci sarà un unico array che punta cioè un unico array con un'unica casella che punta a un unico oggetto ok ecco vi faccio ancora notare che dentro il codice della callback che passiamo possiamo scrivere quello che vogliamo quindi se noi siamo sicuri che stock è un riferimento a un oggetto noi possiamo usare le proprietà dell'oggetto ok è chiaro che se ciò non fosse vero ci dà la callback a un certo punto quando viene eseguita dentro la filter ci darà un errore se noi ci fossimo sbagliati e avessimo scritto che so var vas che ne so giusto per dare un'idea ah no non devo salvare qui mi sono ancora da salvare cosa capita è semplicemente che a un certo punto verrà fuori un errore no ho sbagliato non viene fuori un errore ma semplicemente ha preso undefined ha fatto undefined va bene ecco questa è una delle come dire sfortune di javascript nel senso che cioè se avessimo scritto punto o qualcos'altro veniva fuori un errore che dovete sempre considerare che c'è di mezzo questo undefined java prima di e javascript prima di bloccarsi vi come dire ci pensa due volte nel senso che se può mette undefined e poi però le questioni di confronto tutte le espressioni che hanno dentro un undefined bisogna fare attenzione a come vengono valutate magari non è specificato non è garantito che vengono valutate in una certa maniera per cui di fatto avete un potenziale bug a seconda di dove come eseguite il vostro codice ok e quindi qui io adesso non so più se ha fatto la stessa cosa e quindi ci è andata bene però ci è andata bene nel senso che dipende da cosa javascript vuol fare poi con questo valore undefined perché stock var per il secondo elemento non esiste e quindi viene fuori undefined ok va bene bisogna sempre fare attenzione con javascript perché questo lo dobbiamo imparare bene e questo vale anche per me ok allora due parole sulla programmazione funzionale perché ne parliamo perché in javascript come avete visto la funzione è un elemento centrale del linguaggio possiamo passarla come parametro possiamo ritornarla come valore della funzione e così via quindi assolutamente dobbiamo capire come sfruttarla al meglio la programmazione funzionale è un paradigma di programmazione cosa vuol dire è un modo di programmare il nostro codice che come dire in certi contesti ci può aiutare ci può diciamo rendere più semplice più comprensibile il codice ok noi cioè voi finora avete imparato la programmazione diciamo così procedurale quindi prima c'è un'istruzione poi c'è un'altra poi c'è un'altra poi c'è un'altra è il classico modo di procedere anche il più facile da imparare all'inizio con eventualmente le strutture di controllo e quindi if i rami i cicli e così via nella programmazione funzionale cerchiamo di esprimere quello che vogliamo che il programma faccia in una forma un po' diversa cioè sotto forma di funzioni che trasformano i nostri elementi i nostri dati e ogni volta ritornano un nuovo set di dati che possiamo ulteriormente processare ok quindi per capire come 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 la logica della programmazione funzionale guardiamo questi due esempi in cui cosa dobbiamo fare facciamo esattamente quello che volevamo fare prima il filtraggio di un array cioè un array vogliamo estrarre solo dei valori che ci interessano come prima quelli che avevano il valore minore di zero e così via ok quindi diciamo che noi siamo abituati all'approccio classico qui a destra dobbiamo creare un nuovo array metterci dentro solo quello che ci interessa se arrivate diciamo nel corso di fondamenti di informatica di programmazione cosa facciamo creiamo un nuovo array scorriamo tutto l'array che ci interessa mettiamo la nostra condizione nel ciclo con un if se si aggiungiamo il nuovo array e abbiamo risolto il problema esattamente quello che si fa qui a destra abbiamo fatto in stile javascript questo questo è brutto in meglio list meglio off ovviamente diciamo un esempio didattico questo lo segnalo per i colleghi correggiamo le slide perché list se facciamo in vi ricordo gira sulle proprietà e sugli array non funziona come desideriamo va bene però diciamo il concetto abbiamo il ciclo che gira sull'array if e c'è una qualche condizione che usiamo per testare il valore del nostro elemento e decidere se tenerlo o no se lo teniamo nel ramo vero dell'if facciamo push che in javascript vuol dire aggiungi all'elemento in coda ok la stessa operazione lo possiamo fare con un approccio di tipo funzionale mettendo la funzione come parametro un'altra funzione la filter la stessa che abbiamo visto un attimo fa e la filter per noi farà questa operazione cioè al suo interno avrà il ciclo e avrà questa funzione da chiamare per testare il valore di ogni singolo elemento dell'array ok per poter fare questa cosa a sinistra prima di tutto dobbiamo avere la possibilità di passare una funzione come parametro e quindi in questo senso javascript è molto ben predisposto per questo tipo di programmazione perché possiamo passare avanti e indietro queste funzioni quelle che noi chiamiamo callback e in più in molti casi inclusi quelli che andremo a vedere più avanti noi quando programmiamo il web con react eccetera il codice risulterà più chiaro perché se voi leggete il codice a sinistra diciamo anche da un punto di vista sintattico è molto più chiaro nuovo array uguale vecchio array punto filtro sulla base di questa condizione ok è un po' come lo esprimereste in linguaggio naturale invece nel codice di destra dovete entrare nella logica di programmazione dunque c'è un ciclo aspetto all'array all'inizio è vuoto ok nel ciclo si aggiunge quando è che si aggiunge si aggiunge quando la funzione è vera e quindi si dunque se giro su tutto l'array vuol dire che prendo tutto l'array e in qualche maniera prendo solo quello che mi interessa e quindi di fatto sto facendo un filtraggio avete tutto questo ragionamento da fare a sinistra leggete filter quindi già entrate nell'ottica che è un filtraggio e dovete solo capire qual è la condizione che ve lo fa filtrare ed è espressamente scritta tramite la funzione a callback che passiamo ok quindi può migliorare la leggibilità questo non c'è non c'è dubbio bisogna però entrare un po' diciamo nella logica di questo forse nuovo per voi paradigma se non l'avete mai visto quindi è uno stile diciamo così più dichiarativo più leggiamo quello che c'è da fare effettivamente il codice fa quello che noi leggiamo in linguaggio quasi naturale piuttosto che stile imperativo quindi istruzione dopo istruzione facciamo proprio passo passo quello che ci interessa ok diciamo che è chiaro che per poter usare il paradigma funzionale io ho detto va bene bisogna che abbiamo a disposizione le funzioni e questo è chiaro possiamo passarle gestirle in maniera facile con il linguaggio se volessimo programmare in stile funzionale in C non è impossibile però non so quanto la leggibilità ne guadagna perché cominciate ad avere i puntatori a funzioni ci sono tutti i tipi dei puntatori a funzioni da gestire e così via è più la complicazione che si introduce piuttosto che la facilità di lettura del codice non è impossibile ma sicuramente non è comodo in altri linguaggi come invece per esempio Java scritto questa cosa viene molto più facile quindi nella programmazione funzionale diciamo così le funzioni sono cittadini di prima classe che vuol dire che possiamo combinare facilmente le funzioni passarle e così via funzioni di ordine più elevato possiamo lasciar perdere diciamo che soprattutto possiamo comporre le funzioni cioè metterle diciamo usare delle funzioni dentro altre funzioni passandole alle altre funzioni in maniera da creare quello che vogliamo noi in maniera ragionevolmente leggibile e poi possiamo metterle in catena siccome noi vorremmo che diciamo ogni operazione che noi usiamo nel paradigma di programmazione funzionale ritorni un nuovo dato che ha subito l'operazione che abbiamo fatto come nel filtraggio creiamo il nuovo array abbiamo un nuovo array sul quale possiamo operare con un nuovo operatore della programmazione funzionale quindi che so mappare ogni array e prendere solo dei valori piuttosto che farci delle operazioni sopra piuttosto che filtrarli piuttosto che metterli tutti insieme e così via quindi più funzioni più operatori funzioni possono essere applicati consecutivamente e noi leggiamo questa catena come una catena di operazioni da fare sui nostri dati adesso andiamo a vedere degli esempi perché ovviamente è un discorso un po' teorico ecco per sfruttare al meglio questo paradigma di programmazione funzionale è necessario evitare di modificare i dati stessi quindi ogni volta che facciamo un'operazione ritorniamo un nuovo set di dati come prima creiamo un nuovo array non modifichiamo l'array in place cioè non è che prendiamo i dati e buttiamo via dei dati piuttosto che andiamo a modificare i dati stessi perché? perché ci viene molto più semplice poi mettere le operazioni in catena uno dietro l'altro ok questi sono i principali metodi che noi vedremo diciamo in stile programmazione funzionale per gli array perché questa programmazione funzionale sostanzialmente l'applicheremo l'applicheremo quasi sempre solo agli array perché è il tipo di dato per il quale viene meglio e perché alla fine gli array cosa rappresenteranno nel nostro codice quando andremo a programmare per il web di fatto rappresenteranno una serie di elementi dello stesso tipo che sono in una lista di cose che dobbiamo mostrare a schermo che possono essere facilmente processati con questa modalità quindi decido di mostrare alcuni piuttosto che altri quindi proprio l'operazione filter che abbiamo fatto piuttosto che li trasformo con l'operazione map in altri tipi di dati prendo solo un certo sotto insieme piuttosto che elaboro e creo un nuovo tipo di dato per ogni elemento che mi interessa ok quindi adesso andiamo a vedere queste funzionalità queste metodi fondamentalmente dei diarray uno per uno che sono tipici appunto della programmazione funzionale poi facciamo un po' di esperimenti con l'esempio lavorando sull'esercizio anzi per esempio che vi ho proposto che trovate su github quindi il primo for each quindi il for each prende un array o comunque un qualche oggetto iterabile di javascript che vuol dire sostanzialmente per noi se non è un array è sostanzialmente una stringa comunque qualcosa che si può scorrere diciamo così col for off lo trovate sempre nelle pagine di manuale è spesso scritto questo iterabile e se avete dei dubbi se un qualche oggetto iterabile oppure no andate a cercarlo nella guida e la guida ve lo dirà ma i tipici oggetti iterabili sono gli array ovviamente e poi le string ci può essere qualcos'altro però dipende diciamo da come sono stati scritti fissiamoci su una cosa semplice il for each sostanzialmente è la modalità chiamiamola così funzionale di eseguire delle operazioni su un array per ottenere un risultato che desideriamo per esempio prendiamo questa volta non abbiamo preso siamo partiti da una stringa la trasformiamo in un array questa operazione trasforma la stringa in un array proviamo a vederla visto che siamo così tanto apriamo il viso studio code e facciamo un po' di pratica vi ricordo giovedì c'è il laboratorio quindi dopo domani c'è il laboratorio e ovviamente il primo laboratorio tra poco mettiamo online il testo sarà dedicato a preparare tutto l'ambiente eccetera a fare dei primi esercizi epi come quelli che stiamo facendo noi adesso qui mi sa che sarà meglio che prenda la cartella giusta github a1 wix wix 0 2 ok metto nella cartella giusta perché così poi posso farvi push direttamente facciamo test gs ok use strict e quindi facciamo questa piccola prova dove è andata la slide così appunto vi viene il dubbio di cosa vuol dire una certa cosa cosa vuol dire una certa cosa tre puntini con la stringa non so più cosa vuol dire dunque si tre puntini espande facendo la copia di un array ma in realtà abbiamo parlato di array string cosa succede sulle string come sapete molto spesso la risposta è proviamo vediamo ed è piuttosto che andare a cercare chissà dove sulla pagina di manuale è la cosa più più rapida poi se ci piantiamo ovviamente c'è il manuale c'è google c'è vari siti e così via cerchiamo di chiedere informazioni o piuttosto chiedetene in laboratorio a qualcuno quindi node test vediamo cosa succede va bene hello world ci dice poco allora proviamo il debug che abbiamo intervisto l'altra volta che magari vi serve come si fa a fare il debug prendiamo qui a sinistra mettiamo il puntino un break point ci sarà anche nel menu ma faccio prima a farlo direttamente perché il menu magari è anche piccolo non si vede nella registrazione e così via e poi proviamo a eseguire quindi noi dobbiamo creare una configurazione è una cosa più semplice node ci viene creato questo file launch.json in cui dobbiamo solo verificare che ci sia il file che ci interessa è già salvato se noi torniamo sui file qui dentro in via scotch ci trovate questo launch.json che però una volta che abbiamo verificato che c'è il nostro file non ci interessa più e andiamo col bottone ad eseguire e se c'è il break point automaticamente il codice si ferma ok dovete solo fare attenzione che se avete tanti file nel launch ci sia il file che vi interessa se no lancia l'altro anche se voi avete aperto questo ok bene allora facciamo questa operazione quindi eseguiamo la prima letters vedete che letters è diventato chiudiamo il watch un array di 11 elementi ok vedete qui che è un array non è proprio così esplicito javascript è un po' rognoso da questo punto di vista perché non avendo il template quindi la classe collegata al singolo riferimento diventa difficile dire di che tipo è un oggetto o qualcosa che è puntato da riferimento però diciamo noi non credo che ne parleremo esplicitamente però diciamo che c'è questo prototipo che funziona un po' se volete da tipo della classe dell'oggetto è una storia un po' lunga però appunto ci porta fuori strada e poi soprattutto non ci serve molto per dopo per cui evitiamo comunque allora abbiamo 11 elementi che sono 11 riferimenti a 11 stringhe ciascuna di un unico carattere vi ricordo non esiste il singolo carattere in javascript esiste solo il tipo stringa ma non è una gran limitazione alla fine javascript se le gestisce è una stringa di lunghezza 1 ok quindi abbiamo scoperto che letters è un array potevamo farlo lo stesso facendo console log letters se non volevate aprire il debugger ma già che siamo qui facciamo un po' di pratica uppercase allora chiudiamo questo uppercase è stringa vuota letters for each e passiamo a una callback una callback quindi una funzione scritta direttamente qui sotto forma di arrow function che prende un unico parametro letter la nostra callback prende un unico parametro letter e fa questa operazione uppercase più uguale letter to uppercase quindi andiamo a vedere no dovevo schiacciare entra forse vabbè fa niente ha già fatto tutto allora riproviamo vediamo se mi entra se no fa niente fa lo stesso ok quindi premiamo col bottone per entrare step into si ecco ok se volete entrare nelle funzioni dovete fare step into non over perché se no vi salta tutta la funzione e ci arriva direttamente alla fine della funzione ok va bene quindi uppercase uppercase to uppercase sostanzialmente prende una stringa e la rende tutta maiuscola quindi potevamo anche applicarla direttamente allo word ma l'esempio era già finito quindi l'abbiamo fatta sulle singoli caratteri che sono string in javascript e se andate a cercare potete concatenare le string col più e quindi il più uguale di fatto vuol dire uppercase uguale a uppercase più la nuova stringa prodotta dal tuo uppercase quindi stiamo costruendo mano a mano nuove stringhe ogni volta si crea una nuova stringa in cui mettiamo il nuovo carattere maiuscolo ok quindi adesso usciamo e quindi viene fuori in no ok in uppercase va bene nel global no dove è andato a finire non abbiamo l'accesso no non abbiamo l'accesso ah no scusate ecco sotto sotto avete il call stack quindi se voi passate sul livello inferiore il call stack la funzione prima del for each quindi diciamo la funzione globale dove stiamo eseguendo il codice a livello più basso e ci trovate uppercase con la h no la prima valore andiamo avanti di uno adesso ci trovate ci abbiamo messo il secondo no la l in uppercase è stato messo letter to uppercase che non abbiamo visto esplicitamente ma se andiamo a vedere qui c'è già ah va bene ho fatto i due di giri va bene h e l e così via ok come in tutti i linguaggi di programmazione c'è un call stack se noi chiamiamo una funzione in modalità sincrona siamo entrati nella funzione e quindi c'è lo scope della funzione nella quale siamo entrati come in c chiamate una funzione già ho chiamato una funzione ci sono le variabili locali di quella funzione se non abbiamo fatto pasticci non abbiamo usato i var eccetera ma noi abbiamo detto non li usiamo quindi se avete usato solo letto const va benissimo e siamo a posto ok quindi abbiamo fatto un po' di esercizio così per debagare e andiamo alla fine e ci facciamo stampare il risultato uppercase tutto maiuscolo e l'oward ok abbiamo usato questo semplice esercizio per far pratica col debugger che ogni tanto può venire comodo perché i console log dopo un po' diciamo vengono scomodi per debagare ok quindi andiamo a vedere cosa dicevamo del foreach il foreach invoca la vostra callback si aspetta una callback sincrona cosa vuol dire una normale funzione per ora non siamo capaci a fare nient'altro quindi tutte le funzioni che scriviamo sono sincrone poi forse la prossima volta vediamo come scrive deve funzionare sincrona viene chiamata questa callback una volta per ogni elemento del oggetto iterabile diciamo dell'array la callback può avere tre parametri uno è sostanzialmente obbligatorio javascript non mi richiede che sia obbligatorio ma se non lo mettete non serve a niente cioè avendo una callback non fa niente perché non ha l'elemento su cui lavorare quindi è obbligatorio nel senso che senza quello non ha senso usare questa for each il valore corrente quindi l'elemento correntemente processato nell'array nell'esempio di prima era il carattere dell'array il primo elemento il secondo tetto l'indice opzionale e l'array sul quale è stata chiamata la for each perché ci dà anche l'array per comodità perché che so avessimo bisogno della lunghezza dell'array come la recuperiamo dentro la callback se non abbiamo un riferimento all'array viene scomodo ok si può fare diciamo possiamo fare una closure sull'array però insomma diventa scomodo fanno che passarcelo così viene viene più semplice ok ritorna sempre undefined e ecco questa è una di quelle che non è non si può mettere in catena come dicevo prima ma non è l'unica ma è una delle poche che non si può mettere in catena perché? perché di fatto non ci ritorna nulla ci dà un undefined cioè processa gli elementi uno alla volta e cosa ha di diverso dal resto? ha di diverso che lo facciamo con una callback quindi è predisposta per farlo con una callback potremmo scriverla noi come potremmo rifare tutte queste funzioni che vediamo adesso noi non ci va granché in javascript a rifare queste funzioni però diciamo ci tornano utili per capire la logica ecco a differenza di un normale for che fate voi non potete scrivere break nella callback perché non funziona e perché? perché il ciclo è gestito dalla for each e non è gestito da voi ok? quindi il break funziona se lo mettete dentro un ciclo ma la callback è chiamata quindi una volta che vi viene chiamata la callback siete usciti dal ciclo del for each quindi il break non ha significato però di solito se chiamate la for each è perché non avete bisogno del break se avete bisogno del break vuol dire che la vostra logica di programmazione è un po' diversa richiede non vi basta la callback e quindi dovete farvi il vostro ciclo il for quello che desiderate ok? la for each come tutte le funzioni che vedremo in questo approccio di programmazione funzionale non muta non cambia l'array sulla quale è chiamato ma la callback può farlo anche se ve lo sconsiglio infatti questo esempio secondo me non è particolarmente didattico perché fa appunto un'operazione noi non abbiamo cambiato letter potevate anche cambiare letter ma diciamo rompiamo il paradigma di programmazione funzionale dove non vorremmo toccare i dati su cui lavoriamo ma vogliamo sempre produrre nuovi dati qui diciamo più che altro abbiamo creato un effetto collaterale nel senso che abbiamo creato i nuovi dati i nuovi array uppercase lavorando sui dati dell'array corrente ok va bene quindi questo è un esempio l'ennesimo esempio di come scorrere un array in javascript abbiamo il solito for let i uguale a 0 i minore di n eccetera n cioè array.length il for off e poi abbiamo anche il for each ok for each che prende una callback ok vediamo altri metodi di programmazione funzionale c'è il metodo every testa se tutti gli elementi nell'array passano al test implementato dalla callback che viene passata per esempio verifichiamo se tutti gli elementi sono minori di 10 vedete come è semplice leggere questo codice questo codice è scritto con questo paradigma di programmazione funzionale io vedo qui tutti every tutti gli x del mio array sono minori di 10 la risposta è sì no ritorna vero o falso secondo che questo sia vero o falso se non era così cosa facevo let flag uguale true mi faccio il mio for of e vado a vedere se ne trovo uno che non soddisfa la condizione mi faccio flag uguale false e break e alla fine nel flag ho la risposta ma è tanto così di codice e devo ragionarci sopra per capire cosa fa quindi questa è la diversità dell'approccio funzionale ok quindi secondo per esempio testa se tutti gli array sono 0 se sono pari oppure no e ovviamente no il percento funziona come in C sono tutti operatori che mano a mano quando c'è bisogno li guardiamo li cercate se c'è bisogno questo è il resto della divisione intera ma se venite dal C lo sapete niente di particolare analogamente c'è il sum cioè alcuni testa se almeno uno quindi in realtà più che alcuni almeno uno ma non ho scritto at least one l'ho chiamato sum passano al test e quindi c'è almeno un elemento pari sì quindi questa funzione ci ritornerà sì cosa vuol dire a.sum is none is none cos'è testa is none è una funzione questo is none è una funzione solo che diversamente da prima non l'abbiamo fatta noi è già predisposta nell'ambiente quindi noi possiamo passare qualsiasi funzione che sia nostra che sia dell'ambiente che sia già fatta da qualcun altro da una libreria e così via sono funzioni sono riferimenti li passiamo in javascript si può fare tutto quindi questa funzione in javascript semplicemente va a testare se l'elemento dell'array è un none oppure no ok none è un possibile valore numerico per esempio quello che vi esce da 0 diviso 0 e così via come c'è poi l'infinito ecc quindi questo testerà se qualcuno se almeno uno è none ovviamente in questo array non ce n'è nessuno e quindi ci viene false ok però questo vedete è quasi inglese è quasi linguaggio naturale ok ed è comodo spesso per sviluppare il nostro codice ecco veniamo alla map che è assolutamente importante nel vostro codice all'esame ci sarà sicuramente una map mentre non ci scommetterei che c'è una every c'è un sum eccetera perché non è detto che abbiate bisogno di fare questi test la map ci sarà quasi al 100% perché una lista da qualche parte ce l'avrete una lista di elementi perché insomma se no diamo un tema di esame troppo semplice e con questa map trasformerete i vostri dati in oggetti in codice html che metterete nella pagina ok quindi la map cosa fa mappa tutti gli elementi di un array su un nuovo array con una qualche funzione che li trasforma facendo quello che desideriamo noi quindi la callback fa quello che desideriamo noi può prendere solo dei pezzi può creare nuovi oggetti può fare dei calcoli può fare tutto quello che vogliamo noi in questo esempio a sinistra abbiamo dei numeri la cosa più facile facciamo un conto così rapidissimo l'esempio 1 2 3 a map ad ogni elemento viene applicato viene chiamata la callback quindi in x ci finisce prima 1 risultato 1 per 1 fa 1 il risultato della callback viene messo in un nuovo array nella stessa posizione quindi prendo l'elemento in prima posizione a cui parto applico la callback il risultato lo metto nella prima posizione del nuovo array che mi viene ritornato dalla mappa lo fa la mappa lo crea la mappa il nuovo array così via per il secondo e per il terzo quindi se andiamo a stampare b ci viene fuori 1 4 9 questo funziona questa è un'operazione matematica ma io posso fare operazioni anche più complicate se ho degli oggetti più avanti mi sembra che ci sarà poi facciamo un esempio riassuntivo in cui vediamo tutte queste funzioni quindi con qualcosa di più complicato per ora limitiamoci alle cose semplici l'esempio di prima potevamo farlo con la mappa anzi sarebbe stato meglio farlo con la mappa perché? perché è più naturale perché stiamo creando un nuovo array e applichiamo una trasformazione un'operazione ad ogni elemento dell'array di partenza per ottenere un elemento dell'array risultato qual è l'operazione? l'upper case è molto più leggibile infatti forse per me quasi tirerei via questo esempio perché poi lo trovo nei temi di esame nei progetti non è che mi piaccia tanto che si faccia un for each per creare un nuovo array con questa maniera soprattutto quando avete adesso imparato la mappa ok? se c'è il for each perché bisogna fare delle operazioni particolari sugli elementi del single array senza dover creare dei nuovi array ha il suo senso il for each come ha il suo senso il for e così via se però dovete trasformare l'intero array per creare il nuovo array forse non c'è tutto questo senso anzi sicuramente non c'è tutto questo senso nell'andare a usare il for each perché? perché c'è la map che è più efficiente e più leggibile quindi trasformiamo trasformiamo l'esempio di prima così intanto facciamo un po' di pratica quindi letters anziché for each diciamo map ok? riapriamo la tonda così ci viene anche l'help cosa si aspetta? una callback function ok? dove c'è ci sono tanti parametri come sempre in queste callback a noi di solito interessa il primo il primo valore dell'array di partenza che quindi sarà la lettera e dobbiamo e dobbiamo andare a ritornare ok? dobbiamo andare a ritornare ciò che viene messo nel nuovo array ritornato dalla mappa quindi letter qui non possiamo più scrivere uppercase più uguale letter to uppercase dobbiamo scrivere semplicemente letter to uppercase ok? ok letter to uppercase quindi in questa maniera e dove finisce l'array risultato l'array risultato è il valore di ritorno della mappa prima il for each non aveva un valore di ritorno era undefined perché era una specie di for nel for non avete un valore di ritorno fate delle operazioni quindi uppercase è letters mappa ok? proviamo il codice vediamo la leggera differenza che c'è rispetto a prima però lo facciamo facciamolo col terminale senza debugger intanto oramai non ci serve più quindi terminale node te ho salvato no c'è il pallino non ho salvato ricordatevi sempre di salvare che infatti i test non funzionano qual è il risultato? il risultato è un array non è una stringa prima noi stavamo costruendo una stringa e quindi cosa facciamo? come abbiamo visto intravisto sulla slide c'è il metodo join tanto comodo sull'array che ci mette insieme tutto quanto e di fatto ci crea una stringa quindi uppercase punto join join quindi aggiunge tutti gli elementi di un array in una stringa separato dal separatore che specifichiamo e noi mettiamo stringa vuota così si attaccano tutti insieme ok se passo degli elementi che non sono stringa valgono le solite regole di javascript e viene la conversione implicita perché produce una stringa e quindi convertirà in stringa se un numero viene convertito in stringa che rappresenta quel numero e se non si può convertire diventa un pasticcio diventa un problema perché bisogna vedere come reagisce javascript può darsi che trascurire può darsi che vi lanci un'eccezione non lo so bisogna andare a cercare sulla pagina di manuale o se non troviamo la risposta facciamo una prova ok quindi ho salvato ecco che finalmente ci torna la stringa di prima ok quindi map è una maniera di processare un array tutti gli elementi di un array di ottenere un nuovo array con gli elementi quali quelli che sono il valore di ritorno della callback che noi passiamo alla map quindi rispetto a prima la callback qui deve avere un valore di ritorno prima la callback non aveva un valore di ritorno cioè il valore di ritorno era implicito return undefined tutte le funzioni che non ritornano niente in javascript ritorno undefined ma non ci serviva perché noi facevamo altre operazioni nella callback invece nella map il valore di ritorno è obbligatorio cioè se non c'è sarà undefined e quindi il vettore risultato si riempirà di undefined e quindi ovviamente non ci serve più a nulla ok quindi map ci torniamo su questa map nell'ultimo esempio la filter l'abbiamo già vista abbiamo visto come funziona ecco guardiamo il secondo esempio perché è interessante perché io vi dicevo appunto che queste callback possono prendere più parametri a noi può bastare il primo se ci interessa il valore ma se ci interessa che so l'indice perché perché noi vogliamo tutti gli elementi del vettore in indice pari no cos'è in indice pari perché parte da 0 quindi il primo è 0 poi c'è 2 e poi c'è 4 partivo da 1 non capito più niente trascuriamo element e prendiamo index index per 102 quindi il resto della divisione con 2 è uguale a 0 e avremo solo gli elementi di indice pari ok element perché dobbiamo mettere element perché se noi scrivessimo solo indice come fa la callback a capire che noi vogliamo l'indice cioè il passaggio dei parametri in javascript per le funzioni funziona come in tutti gli altri linguaggi di programmazione il primo parametro è mappato sul primo il secondo sul secondo il terzo sul terzo non è che il nome ci dice qualcosa ok in altri linguaggi il nome può avere significato in javascript no è una cosa posizionale quindi se ha 2 parametri il secondo e l'indice io devo mettere il primo anche se non lo uso perché così nel secondo mi viene messo l'indice ok ultima funzione che è anche quella un po' più difficile ma diciamo questo è più che altro per concludere il discorso sul paradigma funzionale se non usate la reduce all'esame non fa niente va bene lo stesso diciamo nessuno si offende se per fare una soma di un array non usate la reduce o per fare diciamo un compattamento un'operazione che coinvolga tutti gli elementi dell'array e dia un risultato non usate la reduce ma usate un for off o quello che volete ok o for each perché beh niente perché nel diciamo nell'approccio funzionale forse avete sentito parlare di di queste operazioni map reduce combinazione le due funzioni si chiamano proprio map e reduce questo approccio map reduce prima elaboro gli elementi i dati che ho con una qualche funzionalità operazione di map e poi compatto gli elementi che ho per ottenere un risultato cioè riduco gli elementi da tutti a un numero che poi eventualmente ricombino con gli altri eccetera ebbene questa reduce fa esattamente questo prende gli elementi dell'array usando la callback specificata che come vedete è anche un po' più complicata delle altre e produce un singolo valore vabbè qui l'ha chiamato inject and fold a seconda di come volete chiamarla se no se mi piace di più appunto facciamo map reduce che è diventato famoso 15 anni fa o giù di lì quando google ha tirato fuori i suoi approcci diciamo così map reduce per lavorare su tanti dati va bene quindi la reduce prende due argomenti quindi stiamo parlando della funzione esterna due argomenti la callback e un valore iniziale quindi abbiamo due parametri da dare la callback sicuramente senza callback le funzioni del paradigma funzionale non funzionano scusate il gioco di parole ma tutte devono avere una callback perché è quella da chiamare su ogni elemento dell'array e il valore iniziale che tra quadri quindi qui diciamo è opzionale quindi se non c'è sarà il primo elemento dell'array da quel che parte l'abbiamo scritto se no sarà il valore che noi mettiamo adesso vogliamo fare una somma tipicamente da cosa partite da zero all'inizio in questo valore iniziale mettete zero volete fare una moltiplicazione di tutti gli elementi mettete uno e così via perché in quel valore verranno accumulati via via i risultati della callback e alla fine mi ritroverò ritornato alla funzione reduce quel valore processato usando tutti gli elementi dell'array la funzione di riduzione la reducer function fa l'operazione di riduzione prende il valore corrente di questo che inizialmente ha l'initial value ci viene passato il valore corrente che è quello dell'array nel punto in cui sto processando l'array e io devo scrivere la funzione quindi ha una callback la devo scrivere io se voglio sommare tutti gli elementi dell'array la callback prenderà il valore l'accumulato l'accumulato fino a quel momento e ci sommerà il nuovo valore e quindi modificherà il valore dell'accumulato vediamo l'esempio che è molto più facile da leggere quindi da vedere su un esempio che da spiegare 54021 il nostro array reduce prima parametro quindi a partire da qui accumulator fino alla virgola e una callback che abbiamo scritto qui sotto forma di arrow function quindi funzione freccia che prende due parametri l'accumulator e il current value e cosa ne fa? fa accumulator più current value quindi questo è il valore di ritorno vi ricordate se nel arrow function non scriviamo return eccetera se vogliamo farlo dobbiamo aprire aperta graph return accumulator più current value chiusa graph è la stessa cosa e il valore iniziale che metto 0 ok? quindi cosa succederà con questa reduce? succederà che via via in accumulator ci saranno le operazioni che sono descritte dalla callback cioè all'inizio reduce all'inizio la reduce prende e mette dentro l'accumulator che ci passerà 0 poi prende il primo valore dell'array 5 e ci chiama la callback e mette i valori 0 quello che noi abbiamo messo come valore iniziale e 5 esegue la nostra callback e quindi facciamo 0 più 5 viene fuori 5 questo 5 lo prende e lo mette come nuovo valore dell'accumulator che ci passerà il giro dopo al giro dopo siamo sul secondo elemento va a prendere 4 e ci passa 5 e 4 come current value noi facciamo 5 più 4 diamo 9 come risposta come return della callback la reduce prende il 9 e ce lo passa al prossimo giro come valore dell'accumulator 9 3 facciamo 12 e così via l'ultimo giro quando vede che è finito l'array prende il valore dell'accumulator e ce lo ritorna quindi a reduce ci ritornerà alla fine 15 che è l'operazione di somma di tutti gli elementi è il risultato della somma di tutti gli elementi questo meccanismo è flessibile come vedete perché ovviamente quello della somma è la cosa più banale ma posso anche moltiplicare tutto posso anche fare operazioni non necessariamente diciamo così lineari quindi cercare il massimo perché una volta che un valore corrente è un valore che mantengo per tutta la durata dell'array tutti gli algoritmi che voi avete provato finora programmando con un ciclo su un array che hanno un valore un elemento un oggetto che mantiene uno stato fino alla fine del processamento dell'array possono essere implementati con la reduce per esempio il massimo per esempio h val se h è maggiore di val ritorni h altrimenti val quindi ogni volta vai a vedere se il massimo corrente è maggiore dell'elemento dell'array se lo è tieni quello se non lo è prendi il valore dell'array come nuovo massimo quindi h diventa il nuovo valore da mantenere quindi il nuovo massimo e alla fine mi ritrovo col massimo ok li provate ecco questo questo è probabilmente una delle cose interessanti da provare con col debugger entrate dentro ve lo provate con calma visto che non abbiamo tantissimo tempo non lo faccio però vi ho dato tutti gli elementi per fare la prova per conto vostro ovviamente la reduce è la funzione un po' più come dire complicata da capire di questo paradigma funzionale e non è detto che sempre ci serve perché vuol dire che dobbiamo ridurre un array a un unico valore mentre invece la map come vi dicevo la troverete sicuramente perché come dire processiamo in maniera efficiente i valori dell'array per creare qualcos'altro estraendo qualcosa piuttosto che trasformando e così via ok quindi qui c'è uno specchietto riassuntivo che lasciamo sulle slide proviamo questo esempio lo proviamo nel nel come si chiama nel sono andato avanti nel visual studio code quindi usciamo io faccio direttamente copy and call in realtà forse ho anche il file da qualche parte ma visto che è così comodo facciamo e funziona no si incolla male allora andiamo a cercare il file che è meglio quindi dove l'ho messo l'ho messo da qualche parte in read line await no allora mi sa che me lo son perso sarà l'anno scorso score course miei no mi chiedo scusa non so più dove ho messo questo file che ce l'avevo no è andato a finire niente forse stress forse no pro no exercises niente va bene non lo trovo pazienza eppure ero convinto di avercelo va bene pazienza allora facciamo una cosa così ci scriviamo qualcosa di semplice e dove l'arrai strano però che no ah forse vediamo se intanto c'è c'è lì no c'è ce n'era uno sempre male niente ovviamente non si può fare così pazienza lo facciamo lo facciamo dopo lo tiro su nell'intervallo se non è non si è caricato non c'è qui ah eccolo qua abbiamo copiato da view row andiamo in giro per internet ci prendiamo qualche esempio per non scriverli da zero ma non fa niente sono proprio esempi didattici insomma quindi vi mettiamo sempre il sorgente quindi da dove andiamo a prendere le cose così potete provare anche voi facilmente allora questo breakpoint non serve più a niente allora salviamo facciamo una prova intanto si funziona quindi non ho messo errori di sintassi particolari quindi cosa succede qui allora abbiamo fatto vehicles è un array apriamo la quadra quindi è un array cos'è questo array come abbiamo visto nel python tutor di prima ha solo riferimenti ad altri oggetti gli oggetti li abbiamo creato noi una volta che apriamo un graffa creiamo un oggetto in javascript ok ovviamente non abbiamo un template non abbiamo lo stampino col quale creare gli oggetti non c'è la classe no e quindi dobbiamo fare attenzione noi in ogni oggetto di mettere le stesse proprietà quindi di fatto stiamo un po' emulando il meccanismo della classe quindi abbiamo quattro proprietà make model type price quindi il costruttore il modello il tipo e il prezzo automobili cos'è che sono e questo è solo per farvi capire come con questo approccio funzionale scrivendo appunto tre righe riusciamo a fare tre operazioni che ci avrebbero richiesto del codice molto più complicato un for of che gira sull'array nel quale dovremmo andare a mettere un if per cercare il tipo poi andare a prendere il prezzo prendere il prezzo sommarlo a un accumulatore alla fine tirare fuori il il prezzo no in realtà questo vuole la media la media di prezzi di solo un certo tipo di di autoveicolo che vuol dire solo di un certo sotto insieme di oggetti riferiti da quell'array ok si può fare se voi scrivete il vostro codice sum uguale a zero for object of vehicles vi fate il vostro if eccetera si può fare non c'è niente di male però per farvi capire la potenza dell'approccio di programmazione funzionale io posso fare tutte le operazioni concatenando le funzioni ricordate che vi ho detto si poteranno concatenare perché ognuna di queste funzioni ritorna un nuovo array quindi prima non mi modifica l'array perché se me lo modifica poi magari mi fa qualcosa sull'array sui dati originali visto che la copia è shallow non vado a farmi le modifiche dell'array originale mi fa un nuovo array e su questo nuovo array ci faccio la nuova operazione poi alla fine l'ultima funzione la reduce ok mi prende l'array e mi da un unico valore non è più un array ma è il risultato che mi interessa quindi andiamo a vedere cosa fa quindi prendiamo vehicles la prima cosa che facciamo è filter v freccia v type uguale 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 suv cioè andiamo a cercare la proprietà type sull'elemento v v ogni giro sarà il riferimento al nuovo oggetto nell'array quindi al primo a quello che l'array punta nella casella 0 poi nella casella 1 nella casella 2 e così via quindi girerà su tutti questi oggetti e noi possiamo andare a fare quello che vogliamo con questo riferimento se noi sappiamo che c'è la proprietà type la usiamo v.type e poi andiamo a fare quello che vogliamo uguale uguale suv perché ci interessavano tutti quelli che hanno il type suv quindi suv 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 eccetera quindi prenderà 5 elementi quindi il di ritorno di questa filter ci sarà un array di 5 elementi che avranno il riferimento a questi 5 oggetti tutti quelli che hanno type suv poi cosa c'è map v.v.price ok cosa facciamo prendiamo questo array di 5 elementi e ne creiamo un altro di 5 elementi la map non vi fa un cambio della lunghezza dell'array semplicemente mappa da un array vecchio a un nuovo array e noi cosa facciamo anziché prendere il riferimento andiamo a prenderci il valore il v.price cioè il price di ognuno di questi 5 oggetti e lo mettiamo in un nuovo array che a questo punto è diventato un array di 5 numeri il tipo numero esiste quindi un array di 5 numeri ma più un array di riferimenti e poi ci applichiamo il reduce come abbiamo visto prima e facciamo l'operazione non è di somma così per variare un po' abbiamo fatto la media ok quindi alla fine di fatto è sempre una somma potevamo fare una somma e poi alla fine fare diviso array.length ok però però non avremmo saputo quanto era lungo l'array perché dovevamo spezzare la catena perché a noi interessava quanto era lungo l'array prima di reduce che non è la lunghezza di vehicles perché erano solo più 5 perché qui c'erano 5 suv se noi cambiamo se non è suv sarà un'altra lunghezza e così via e quindi abbiamo sfruttato il fatto che la reduce prende una funzione di callback che può avere fino a 4 parametri l'accumulatore e il valore corrente sono quelli obbligatori che abbiamo visto sulle slide e poi altri due valori opzionali uno è l'indice nell'array e l'altro è l'array stesso ok così abbiamo a disposizione la possibilità di prendere array.length e anziché dividere alla fine dividiamo ogni price che sommiamo direttamente per array.length quindi abbiamo già la divisione fatta alla fine della somma ok quindi abbiamo spostato l'operazione di divisione dentro la somma ok ovviamente il valore iniziale è 0 perché è una somma voglio fare la somma e poi avere la divisione per avere il calcolo della media quindi provate a ragionarci sopra su questo esempio ovviamente è un esempio didattico quindi come dicevamo potevate tranquillamente fare il vostro for over eccetera ma vogliamo provare a vedere qual è l'idea della programmazione funzionale questo esempio dovrebbe darci una buona indicazione di come si può pensare di procedere usando questo approccio usando anche questa reduce che alla fine se volete la funzione è un po' più difficile da digerire quindi non fatevi ingannare dal fatto che siamo andati a capo javascript va a capo e non mette il punto e virgola quando non va messo quindi non è un problema però andiamo a capo per una questione semplicemente di legibilità ma finché noi continuiamo ad avere un oggetto appunto se mettiamo punto vuol dire che facciamo accesso ad una proprietà dell'oggetto precedente javascript non mette punto e virgola ok quindi questo comunque questo tipo di scrittura indentazione eccetera vi verrà naturale dopo un po' che è programmata in javascript ok quindi io direi che visto che siamo arrivati all'argomento nuovo che è appunto è la programmazione asincrona io farei un po' di pausa adesso che viene bene così dopo facciamo l'esempio che vi ho messo online quindi non scappiamo cominciate a guardarvi l'esempio che lo so che nell'intervallo non sapete cosa fare se non chiedermi qualcosa e dopo facciamo l'esempio e andiamo avanti poi iniziando un po' di programmazione asincrona va bene grazie e a tra poco grazie